Buongiorno a tutti, buongiorno, 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 eccoci, secondo me, buongiorno, le scuole di Mazzari sono sempre molto organizzate, soprattutto nella ripartenza, anche con l'involgimento dei laterali, e questo secondo me è il paricolo dal punto di vista tattico, in ogni caso che le ha sferfato della delita di Mazzari. Una buona squadra, sicuramente, una squadra che ha educatori di talento, anche loro saranno in casa, che è un vantaggio, però per me non cambia niente, ho già detto agli giocatori all'inizio della stagione che giocaremo tutte le partite, 38 partite per vincere, sempre per vincere, che sia un gardero di la sanità.